Peculiarità enogastronomiche e questo connubio mare-terra accompagnato dai nostri vini per dare forza a tutto il sistema agroalimentare pugliese e quello delle diverse comunità, quindi campanili che stanno insieme per fortificare il sistema Puglia che sta avendo grandi risultati, ha avuto apprezzamento a livello internazionale come vedete dagli ultimi dati e quindi stiamo continuando a stare vicino alle comunità locali che stanno facendo grandi sforzi, sacrifici a tenere insieme un tessuto economico e produttivo molto molto forte del quale parliamo in maniera puntuale ma soprattutto per l'impatto, lo ricordo sempre, che sulla salute hanno i nostri prodotti.